Diciamo che potevamo forse finire l'ultimo set in maniera diversa, perché comunque avevamo lottato gli altri set e sarebbe stato bello lottare anche l'ultimo set, però poi lì a prevalso la loro bravura, comunque sono fortissime sapevamo che sarebbe stata dura, siamo entrate con l'obiettivo di divertirci, di far bene alle nostre cose infatti si è visto comunque, le abbiamo messe anche un pochino in difficoltà, quindi siamo contenti e soddisfatte Un set pari, 13 a 10 per voi, poi è arrivato il parziale loro, impressionante e lì ci avete davvero creduto di poter essere le prime a strappare almeno un punto a questa carrozzata Eh sì, lì sì, lì mi hanno detto ragazzi, ancora un set, almeno un punto a Panigliano e glielo prendiamo poi ovviamente loro, purtroppo di un altro livello, sono veramente super forti, quindi tanto merito loro e tanto merito anche a noi, perché comunque abbiamo lottato tanto